Nel cuore di Pescara arriva tutta la magia del letto fluttua. Da Harlem Design, storico rivenditore del brand Lago, è possibile vivere un'autentica design experience Lago e scoprire l'iconico letto sospeso che da 18 anni sfida la forza di gravità. Simone Goffo, responsabile comunicazione di Lago. Siamo qui a Pescara presso questo bellissimo spazio espositivo per conoscere tutta la magia del letto fluttua. Ma ce la vuole raccontare? Innanzitutto possiamo dire che il letto fluttua compie ufficialmente 18 anni, ha raggiunto la maggiore età, però riesce a mantenere la freschezza di quando è nato. È un prodotto che più di 100.000 persone hanno deciso di metterne le proprie case e quindi possiamo affermare che è un prodotto che è anche cercato di andare oltre quello che sono le mode. Un prodotto un pochino senza tempo. È nella filosofia dell'azienda progettare dei prodotti, degli arredi che possano durare nel tempo e non essere figli della moda del momento. Fluttua è proprio uno di questi prodotti, è un prodotto visionario sicuramente. L'idea è di Daniele Lago che nel 2004 voleva sviluppare un letto che fosse assolutamente leggero e che desse quella sensazione di essere quasi sopra una nuvola, galleggiare, motivo per il quale il letto si chiama fluttua. Quindi cosa ha fatto? Ha semplicemente sospeso il letto con delle piccole magie che a volte nascondiamo, a volte no, ma possiamo dire che si regge attraverso un ancoraggio a parete e con una gamba centrale e questo qui dà un pochino l'effetto di sospensione che dicevo prima. Oltre a questo ha cercato di creare un prodotto che fosse assolutamente semplice e minimale, ma anche forte e resistente allo stesso tempo. Quindi nessun ingombro oltre il materasso. Un'altra caratteristica molto interessante è che non avere supporti sotto il pianale dà un'estrema semplicità nella pulizia e questo qui sia nelle case ma pensiamo anche a una camera d'albergo che deve avere pulizie costanti e quindi per il personale diventa anche molto semplice questa operazione. L'azienda Lago in questi giorni ha dato proprio il via ad una campagna che si chiama Spazio alla leggerezza. Beh sì, Spazio alla leggerezza nasce proprio per il letto fluttua, è la campagna che stiamo lanciando in questi giorni a livello nazionale anche in tv e si riferisce un pochino proprio alla leggerezza stessa del letto quindi questa idea di un letto leggero che fluttua nell'aria ma vuole essere anche un pochino un messaggio dell'azienda nel vivere gli spazi con più leggerezza visto anche il momento un po' complicato che a livello internazionale stiamo vivendo quindi vuole essere anche un messaggio pubblicitario un pochino leggero ovviamente. E' una campagna che sta andando a livello nazionale ma che stiamo appunto portando avanti assieme anche alla nostra rete vendita sul territorio. Oggi siamo a Pescara con il Lago Store Pescara quindi questa sera ci sarà un evento dedicato al fluttua e quindi stiamo portando avanti questa idea di leggerezza un pochino in giro per l'Italia. Ecco noi Gianni Lembo uno dei titolari di questo bellissimo store nel cuore di Pescara Harlem Design che vanta davvero una storia molto longeva. Sì innanzitutto buonasera diciamo che innanzitutto siamo molisani e abbiamo voluto abbracciare questa nuova esperienza qui su Pescara con il Lago Store quindi siamo esclusivisti di Lago su Pescara. Abbiamo comunque una storia ormai di circa 50 anni che siamo nel settore dell'arredamento dove negli altre strutture ci occupiamo un po' dell'arredamento in generale quindi tutto ciò che riguarda la casa. Siamo presenti con tantissimi marchi di fascia medio alta con delle strutture di dimensioni abbastanza importanti. L'azienda nasce inizialmente con mio padre e mio zio che da ragazzi da Falignami hanno intrapreso questa attività. e niente come ultima cosa siamo arrivati qui a Pescara ci affascinava il mondo lago anche perché siamo già rivenditori sulla zona di Termoli soprattutto con l'oro e abbiamo avuto innumerevoli riscontri e quindi abbiamo fatto questa scelta e ci auguriamo che anche ai pescaresi mi piaccia questa questa azienda. E Pino Lembo insieme al papà e al fratello ha dato vita a questo bellissimo store nel cuore di Pescara ma lei vanta anche una grande esperienza nel settore degli arredamenti essendo la vostra un'azienda molisana di famiglia. Sì sicuramente noi siamo presenti anche in altre sedi siamo presenti a Campopasso esattamente a Vinchiaturo con una struttura di oltre 5.000 metri di esposizione poi siamo presenti a Termoli sempre con una struttura di oltre 3.000 metri di esposizione. Poi nel 2016 siamo arrivati qui a Pescara abbiamo aperto quindi questo store prima con un'altra azienda adesso da un annetto con una lago che è un brand molto forte conosciuto e fa molta comunicazione sui social quindi sul web quindi i ragazzi riescono a seguirlo quindi riescono a seguire un attimino le loro proposte quello che propongono diciamo tutte le situazioni attuali nel settore dell'arredamento. E questa sera voi per presentare il Letto Flutto avete organizzato un evento davvero molto interessante che si celebra anche attraverso il buon vino e la buona musica. Sì sicuramente, questa sera quindi abbiamo creato questo evento insieme in collaborazione con la Lago dove presentiamo questo Letto Flutto che rappresenta la storia della Lago infatti diciamo è il diciottesimo anno e quindi in virtù di questo diciottesimo anno la Lago insieme a noi rivenditori sta organizzando questi eventi un pochettino particolari. poi è normale che insieme a noi quindi abbiamo anche altre persone abbiamo anche in altri settori dove ci sarà una cantina che presenta appunto il suo vino è una cantina del posto ed è molto rinomata. Siamo venuti a Pescara perché ci faceva piacere Pescara anche perché abbiamo un negozio a 70-80 km Termori un altro punto vendita e poi abbiamo il punto vendita Arlem quello storico a Campopasso che ha una struttura di circa 6-7 mila metri di espositivo dove allacciamo tutti i prodotti però in tutte e tre gli showroom abbiamo sempre il prodotto di nicchia poi abbiamo a seconda il budget che uno vuole mettere a disposizione quindi non è che entrando da noi si può comprare quello e non si può comprare nulla noi possiamo soddisfare tutte le esigenze che uno ha cerchiamo di capire che cosa il cliente vuole investire perché ognuno dice ma io non voglio investire più di tanto noi cerchiamo di trovare il prodotto innanzitutto di qualità anche se di una fascia un po' diversa però dando sempre una garanzia del prodotto di 60 anni di esperienza quindi diciamo che per stare 60 anni sul mercato e stare all'impiede ancora oggi con i tempi che stiamo attraversando non è che sono tanto belli però noi abbiamo creduto sempre nel lavoro che facciamo perché se il lavoro lo fai col cuore ti dà una risposta se lo fa perché lo devi fare lo fai però non ti crei lo stimolo invece secondo me il lavoro è come trovare una bella ragazza trovare una bella ragazza ti stimola e la corteggi la stessa cosa il lavoro se noi lo facciamo con serietà professionalità e passione facciamo bella figura accontentiamo il cliente e non perdiamo la vendita ciao a tutti io sono Michela e vi aspetto nel punto vendita Lago Store di Pescara e tutti i giorni dal martedì al sabato il lunedì anche su appuntamento quindi quando volete sono qui Grazie a tutti